Da soli non si vince. Sono convinto che la Meloni non si batta con i campi larghi. Ritorna come sempre quando il centro-sinistra prende le batoste in auge il campo largo. Sì, queste sono soluzioni facili, secondo me ha problemi difficili. Conte riunisce i suoi parlamentari per analizzare il voto delle amministrative. Il campo largo sì o no? Non ragioneremo mai nell'ottica di unire i partiti per una sommatoria di voti, perché poi lo vediamo che è quello che succede, no? Guardi il centro-destra. Ma perché il centro-destra funziona alla sommatoria? Secondo lei funziona. Funziona per vincere le elezioni perché si mettono insieme e funzionano solo le elezioni. Le 5 stelle si fanno corteggiare sempre ma dicono sempre di no. Siamo, penso, sempre forti nelle nostre idee, delle nostre azioni. Nel prossimo europeo perderete così amaramente come... Non penso nel modo più assoluto. Non c'è stato l'effetto Schlein, non ha premiato nemmeno il PD. Però dobbiamo anche, secondo me, uscire dalla logica di sorprendere l'elettorato con effetti speciali, fare progetti seri e misurarci su quelli. Il fatto Conte si è visto. Alle politiche l'abbiamo visto bene. E all'europea? Bisogna fare una... Lavoreremo fino al prossimo anno per vederlo. Il Movimento 5 Stelle si riorganizza per le prossime amministrative. Partono 84 gruppi territoriali. Per noi sono una novità, ci contiamo molto ma soprattutto la nostra base le aspettava con impazienza. La forza produzione delle 5 Stelle non si è mai spenta. Non si è mai spenta. Ma l'abbiamo visto durante la campagna elettorale, quelli che sono passati appena sette mesi. Qua a occupare la giunta per le elezioni di Montecitorio perché si sta compiendo quello che noi riteniamo un furto di democrazia. Nel tardo pomeriggio i pentastellati occupano la giunta per le elezioni contro l'emendamento del forzista Pittalis che vuole il riconteggio delle schede nulle in un collegio in Calabria. Non si pensa qui dentro a come buttare fuori dei parlamentari regolarmente eletti. Si metterà in moto il meccanismo flipper, quindi parliamo di almeno 20-30 deputati che potrebbero vedersi tolto il seggio. da Occupai-Tetto contro la riforma costituzionale di Renzi a Occupai-Giunta. Senatore, la forza propulsiva delle 5 Stelle c'è ancora? Sì, sì. Tra le europee? Assolutamente. La Cilain ha detto da soli non si vince. Conte ha risposto che il campo largo non è la risposta. Ha già risposto il presente. Però si ripeterà lo stesso schema perdente anche all'europea? L'europea fino a prova contraria sono un voto proporzionale secco sulla singola lista, quindi anche i partiti di centrodestra immagino andranno divisi all'europea. Io credo che non sia il campo largo, la mucchiata a far vincere un'elezione, sia un progetto che si va anche a cicli. Ora è un momento in cui il centrodestra ha il vento in poppa. Alle prossime amministrative sarete più attrezzati? Grazie, noi siamo sempre innovativi. Grazie, buonasera. La forza propulsiva dei 5 Stelle non si è spenta, l'effetto Conte, diciamo. Si parla di effetto Schley? Grazie. Grazie a tutti.